Significativamente negativa e rilevante, così l'ufficio parco del comune di Porto Cesario, gestore della riserva naturale Palude del Conte, Duna Costiera Porto Cesario, giudica l'incidenza del piano di sviluppo industriale di NTC, Nardò Technical Center. Un parere che non lascia spazio a dubbi, eppure bypassato dalla regione in nome della dichiarata pubblica utilità dell'opera. Stiamo parlando dell'ampliamento della pista di collaudoveicoli da più di dieci anni gestita dal gruppo Porsche e che da masterplan prevede l'esproprio di diversi terreni, con corresponsione di indennità calibrate appunto sulla base della pubblica utilità dell'opera. Questo parere è stato rilasciato a novembre 2022 in riscontro alla nota protocollo del servizio via della regione Puglia e afferma con certezza che l'intervento proposto ha un'incidenza negativa, significativa sul sito. Il servizio via ha poi valutato positivamente le misure di compensazione proposte nell'ambito del piano di sviluppo industriale. L'ufficio Parco però aveva evidenziato come già il piano di gestione del SIC, oggi zona speciale di conservazione, ribadisse la valenza naturalistica ed ecologica di queste aree anche di valore paesaggistico. Oltre ai valori naturalistici legati alle macchie di Arneo, la presenza di importanti mosaici di macchie basse, garighe, prati aridi e prati pascolo di elevato valore conservazionistico. Con riferimento agli uccelli sono state censite per il sito 105 specie, di cui 47 considerate nidificanti e 55 migratrici. Per quanto concerne la componente forestale, i popolamenti forestali in cui il leccio risulta presente a vario grado di densità interessano una superficie compresa tra i 200 e i 300 ettari, dato che esprime nel medio periodo il potenziale di sviluppo dal momento che la vegetazione attuale tende verso un progressivo aumento. L'ASL di Lecce, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, aveva rilasciato poi un proprio contributo rilevando la necessità che il SIA fosse integrato con un'apposita sezione riguardante l'aspetto tutela della popolazione. Se il proponente, si legge, stima che vi sia un raddoppio delle emissioni annue di GHG, ovvero i gas a effetto serra, con rilevanti impatti sulla componente aria di inquinanti, in particolare sulle ricadute di particolato PM10 e PM2,5, rilevata la eseguità delle misure di riduzione e o mitigazione previste, risulta sommamente necessario ridurre sin da subito le emissioni di inquinanti sull'intera area della zona speciale di conservazione, realizzando sin da subito le piste ciclopedonali previste nel Pug di Porto Cesario. Dunque, l'Ufficio Parco, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dell'intera area, afferma con certezza che l'intervento proposto ha un'incidenza negativa significativa sul sito.